La droga si trovava dietro l'armadio della camera da letto, oltre mezzo chilo di marijuana fiutata dai cani antidroga. Il fatto è avvenuto a Condro. Qui i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un uomo del luogo per detenzione a fili di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato curato dai carabinieri della stazione di Fondachello Valdina, coadiuvati dal nucleo cinofili di Palermo Villa Grazia. Durante una perquisizione domiciliare, grazie al fiuto del cane antidroga, è stato ritrovato un involucro nascosto dietro l'armadio della camera da letto, dove è stato trovato e sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana. La droga sequestrata è stata inviata ai carabinieri del riso di Messina per le analisi di laboratorio. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Un altro arresto è stato effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Palermo. È stato arrestato un 23enne palermitano per detenzioni di arma clandestina a possesso di sostanza stupefacente ricettazione. All'interno dell'abitazione dell'uomo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, i carabinieri hanno trovato quasi 30 dosi tra marijuana e cocaina, nascoste all'interno di uno stipite della cucina. Poi nella camera da letto, dentro un borsello, all'interno di un comò, insieme a due centraline per auto con le relative chiavi, è stata trovata una pistola Beretta modello 98 con matricola brasa e completa di caricature con 16 proiettili calibro 9 ed ulteriore munizionamento. In un locale della disponibilità dell'uomo sono stati rinvenuti inoltre materiale per il confezionamento dello stupefacente, due motocicli e parti di un'autovettura, questi ultimi tutti risultati oggetto di furto. Il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale lorrusso Pagliarelli, dove nei prossimi giorni si svolgerà l'interrogatorio di garanzia.